Sono aperto anche a qualsiasi proposta utile per Cittadella, che non guardi solo al bene dei pochi, ma che guardi al bene della collettività. Partita chiusa, almeno quella sulle liste che Adamo Zambon, candidato sindaco per il centro-sinistra Cittadella, presenterà sabato. Resta aperta invece la porta per tutti coloro che vorranno partecipare al progetto con idee proposte. Zambon nei prossimi giorni intensificherà il tour per incontrare associazioni e frazioni. Ho già cominciato anche a fare il giro delle frazioni, magari cominceremo a farlo anche in maniera un po' più approfondita. Il rilancio di Cittadella parte dai giovani. Secondo me la prima cosa che farò sarà dare un grande evento per i giovani, quindi mettermi subito al tavolo per portare un grande concerto a Cittadella, per dare un nuovo inizio a questa città.